Noi siamo qui perché siamo rimasti sconvolti da dei bambini che rubavano gli orchi per mangiarci sopra. Dei demoni in custodia cautelare come nelle favole, nelle fiave. E se questo fosse vero, vogliamo che la pena nei loro confronti fosse una pena assolutamente come nelle favole. I reati per i quali questi bambini secondo noi devono essere condannati se sono colpevoli sono il reato di sequestro di orchi e il reato di tortura dei demoni come nelle favole. E voglio dire io oggi al partito dei bambini, restiamo umani perché ci hanno i problemi di immigrati, va bene? E se ce li hanno i orchi, gli italiani chissero. E' scandaloso quello che è accaduto qui. Ciao!